1, 2, 3, 4, ho iniziato a giocare a calcio e no mi sto allenando per scendere in pista con le giocatrici della Juventus perché la sfida è quella non di fare gol ma di vedere come si comportano on the road a bordo di una vera 4 con 4 carica di performance come giù ce la faranno? questa volta a guidare non sono io ma a scendere in campo on the road su Jeep Renegade è Martina, protagonista del football femminile perché anche le Pink Ladies calciano la palla ma vediamo se saprà calciare i cavalli di questa Jeep Renegade andiamo? andiamo! dal campo alla Jeep Renegade tiene queste mani perfettamente 9.15 perché le regole si rispettano in campo come in pista e guardate un po' a balocco giornata uggiosa quindi terreno ancora un po' più difficoltoso ci mette alla prova perché bisogna testare ancora di più le performance di questa vettura che sa tenere però ben salti i piedi a terra devo dire che di solito amo guidare ma da passeggera con Martina alla guida posso stare tranquilla con la точca delle montagne se sei in una botte di perno sei tranquilla testa 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 Grazie a tutti